E' finita così, con decine di persone ferme in mezzo alla strada, bambini compresi, ad urlare la loro rabbia per uno sgombero annunciato da tempo. Si tratta di una parte degli occupanti, 12 famiglie, un centinaio di persone in tutto, che dalla scorsa settimana vivevano abusivamente in questa palazzina di Via del Romito a Rifredi, periferia di Firenze. Palazzina che è stata sgomberata all'alba su richiesta della procura fiorentina da parte delle forze dell'ordine. I militanti del Movimento per la Casa, corsi sul posto per fermare lo sgombero, però non ci stanno. Questo palazzo è sfitto da 16 anni, era in balia di piccioni e quant'altro, un immobiliare che aveva rapinato, estrozzato centinaia di inquilini, l'aveva lasciato nell'abbandono. Il Comune di Firenze invece di requisirla non ha fatto niente. E lo stabile è diventato per i futuri occupanti una soluzione ai loro problemi. Con i cinque bambini non ho dove andare, purtroppo non lavoro più e l'unica risoluzione è occupare una casa. Il Comune non ci aiuta, sono belle dieci anni che aspetto per una casa comunale. Io non posso mi aspettare per tutta la vita, a me mi serve ora. Per provare a fermare lo sgombero, cinque persone sono anche salite sul tetto del palazzo, ma inutilmente. Il Comune però ora ha aperto una trattativa con gli occupanti che verranno ricevuti venerdì prossimo dal vice sindaco Stefania Saccardi, per trovare una soluzione abitativa alternativa.